Il Farti Museum nasce proprio da una idea, quella di rendere l'arte in qualche modo fruibile ad personam. È un museo, sarà un museo digitale, ma interamente interattivo e i fruttori di questo museo potranno costruirsi il loro percorso. Questa è la particolarità. Protagonisti in qualche modo per un giorno dentro un mondo d'arte, 10.000 immagini disposte attraverso un grande software in una location che, partendo da una cupola immersiva, li coinvolgerà a 360 gradi in un'esperienza sensoriale e visiva. Poi ci sarà anche un momento di razionalizzazione del percorso compiuto e di approfondimento, per chiudere poi con un momento laboratoriale, in cui questa volta diventano veramente i nostri fruttori anche artisti per un giorno. Tutto questo appunto grazie a un progetto messo in cantiere dalla Fondazione Dignità Tis Persone, con il liceo artistico dell'Osmian International Campus, grazie a un contributo della Fondazione Careplo. Questo è davvero l'esempio di come fare qualcosa per i giovani, con i giovani, sul nostro territorio. È davvero possibile quando le forze si uniscono. Per cui l'augurio è davvero poi di avervi tutti ospiti al nostro Farti Museum, il museo digitale fatto da te.